Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Ormai è passato oltre un decennio dal brutto incidente in cui è stato coinvolto Michael Schumacher e che, purtroppo, ha rovinato la vita del tedesco. Il famoso incidente sugli sci di Schumacher fece subito il giro del mondo, le sue condizioni erano critiche. Tuttavia, le notizie riguardo la sua salute, furono presto bloccate dai parenti che, in un momento così delicato, preferivano evitare ogni contatto con la stampa. Ancora oggi, non si sa nulla riguardo delle condizioni in cui si trovi il pilota. Infatti, la sua famiglia lo ha bloccato nella sua villa. Allo stesso tempo, però, alcuni amici di Schumacher hanno deciso di parlare e di condividere con il mondo cosa stesse passando l'ex pilota della Ferrari. Adesso, infatti, a parlare è stato Vaggio Benoit. Alla domanda del giornalista, l'amico di Schumacher ha risposto molto chiaramente con queste parole. La risposta a questa domanda è una sola e l'ha data suo figlio Mick nel 2021 in una delle sue rare interviste. Darei qualsiasi cosa per parlare con papà. Questa frase dice tutto di come sta suo padre da oltre 3500 giorni. È un caso senza speranza. Le parole utilizzate da Benoit sono state piuttosto forti ma, adesso, non c'è alcun dubbio sulle condizioni di Schumacher, non ci sono molte speranze che si riprenda del tutto. L'ex pilota della Ferrari, a dieci anni dal suo incidente, è ancora in una situazione critica. Un destino piuttosto crudele per una persona che ha donato così tanto al mondo dei motori. Ad oggi, le condizioni di Michael Schumacher sono ancora molto incerte. I familiari hanno deciso di allontanare la stampa dalle loro vite. Tuttavia, ci sono alcuni amici che ancora condividono informazioni sull'ex pilota della Ferrari.